Ah, un giorno scoprirò anche cosa vuol dire questo messaggio pieno di 0,1 che c'è sul soffitto, ma per il momento andiamo inserire la combinazione segreta dei cubi colorati e vediamo cosa succede di bello. Ok, salve a tutti, sono Espigioca e bentornati in Hello Neighbor, l'Alpha 4. Oggi siamo tornati qui perché c'è un altro incredibile mistero da risolvere. Il mistero dei cubetti colorati, che sono nascosti veramente bene in tutta la mappa, ma che ho una mezza idea su cosa possano significare. Qui abbiamo tre cubetti verdi, come potete vedere sul sedile di questa macchina gialla, quella con cui siamo arrivati alla nostra nuova casa per traslocare, e sono abbastanza nascosti, ma osservando bene si riescono a notare, ma i cubetti che andremo a trovare nel resto della casa, ebbene gente, sono ancora più bastardi e incredibili. Salve signor vicino, non mi ha notato proprio per niente, è vero? Vero, continui a fare gli affari suoi, io continuo la mia, invece, esplorazione alla ricerca dei suoi cubetti, che mi sembrano essere molto, molto interessanti. Corri, 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 corri! Ok, una volta arrivati al primo piano, gente, dobbiamo metterci alla ricerca di questi cubetti. Ricordiamoci, tre cubetti verdi. Ora dobbiamo andare a cercare gli altri colori, che dovrebbero essere in giro per questa casa, ma dannazione, sono veramente, veramente in alto. Mi sa che per raggiungerli, mi conviene utilizzare il trenino. Dai! Ah! Ok, pomello del letto, perfetto! Dentro! Ho fatto un fail incredibile. Pomello del letto! Oh! Ok, grazie porta per avermi fatto passare. E una volta che siamo all'interno di questa bella stazione per treni, dobbiamo beccare il nostro trenino, che penso stia arrivando, e ovviamente utilizzarlo, gente, per arrivare ancora più verso l'alto. Il posto in cui dobbiamo posizionarlo è questo, è molto simile a quello che abbiamo fatto la scorsa volta. Se solo passasse... Oddio, sta arrivando! Ok, piano, piano trenino, piano! Fermati, grazie, apri le particiuale. E fammi entrare... Perfetto. Oh, 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 oh... Rallenta, rallenta. Facciamo qualche passetto all'indietro. E, ah, qui in avanti, qui in avanti... Esattamente, qui ciccio. No, un pochino più in avanti. Perfetto, esattamente, qui ciccio. Ora smontiamo dal trenino, vediamo se ce la facciamo con tranquillità. Prendiamo, ovviamente, il nostro ombrello, altrimenti moriamo malissimo, e... Whiiiiiii! Perfette. E planiamo, dolcemente, sulle rotaie. Una volta arrivati qui, ovviamente, un bel saltino qui sul tubo, che non si sbaglia mai, un bel saltino qui sul nostro piccolo trenino e un altro saltino qui sul tetto. E a partire da questo tetto, gente, bene, ci sono veramente tante, tante cose fighe da guardare. Perché se non sbaglio, ok, qui ci sono dei cubetti rossi. Questi cubetti, che ho visto anche la scorsa volta, hanno quindi un vero e proprio significato, dovrebbero essere uno, due, tre, quattro, cinque cubetti rossi. Quindi abbiamo tre cubetti verdi, cinque cubetti rossi, teniamocelo a mente. E dobbiamo andare a cercare però gli altri colori, ma non so se vi ricordate, li avevamo già intravisti un'altra volta, se non sbaglio. Abbiamo intravisto dei cubetti all'interno di questa struttura, che adesso andremo a visitare. Oh mio Dio, l'ombrello che mi... Ah! Ok, ok, due cubetti gialli. Quindi abbiamo ottenuto tre cubetti verdi, cinque cubetti rossi, due cubetti gialli. Questo significa che è una sorta di combinazione, però una combinazione che va inserita dove, gente? Ebbene, ho anche una mezza idea su dove debbano essere inseriti questi cubetti. Questi cubetti vanno in una zona segreta che non abbiamo visto fino a questo momento, ma che sono riuscito a esplorare per conto mio. E ora vi mostrerò in gran privato, perché è una cosa molto molto delicata. Qui, gente, appena prima della stazione principale del trenino, infatti, ci sono delle finestre molto misteriose. E dato che adesso abbiamo il doppio salto, possiamo provare a entrarvi all'interno. Quindi, ovviamente, tiriamo fuori il nostro ombrellino. Oddio, se cado vicino, mi prende, sono finito. E facciamo un doppio salto. E siamo dentro, all'interno di questo posto che sembra essere apparentemente senza senso, perché non c'è niente in pratica. Vediamo lì, forse una mezza trave di legno, ma niente di importante. Ma qui, gente, c'è una sorta di pannello, di finto muro, attraverso il quale possiamo passare, entrare in questi nuovi ambienti, sotto le scale. Vi ricordate, tipo le scale mobili, come se fossimo all'interno di un centro commerciale che vedevamo dalla stazione del treno. Ebbene, siamo sotto di queste, ma andando avanti, vediamo che continuano ad esserci pannelli finti. E capitiamo in una stanza molto, molto strana, dove c'è uno script mancante dell'Unreal Engine. Noi ci buttiamo dentro e... Wow! Wow! Ok, ok, sono all'interno di qualcosa di molto buggato e glitchato, con un codice segreto sul soffitto. È qualcosa di veramente, veramente strano, ma ancora più particolare, gente, perché questo probabilmente può essere tradotto e sarà un piccolo indizio per quando uscirà la nuova alfa o cose simili, oppure magari su altri segreti da scoprire. Magari cercherò la traduzione di questo linguaggio binario, ovviamente in un linguaggio umano intelligibile. E a questo punto, gente, però, come potete vedere, ci sono quattro cubetti, tra i dei quali sono di colori che abbiamo già trovato. Il rosso erano cinque, il verde erano tre e il giallo erano due. E, gente, a questo punto non so effettivamente come inserire la combinazione, soprattutto perché non conosco il numero di cubetti bianchi. E questa è una cosa che devo ancora scoprire, spero di farlo oggi, in questo episodio. Non posso nemmeno premere e interagire con questi cubetti. Come faccio a dire, tipo, cinque cubetti rossi, tre cubetti verdi, due gialli, e un bianco, o tre bianchi, o quattro bianchi? Non posso inserire questa cosa, quindi è veramente una cosa molto, molto strana. Ehi, ma qui, qui ci sono delle finestre che non ho ancora visto. Wow, ci sono delle finestre nascoste su questa parete che, però, sono chiuse. Potrei però entrare all'ora interno grazie all'ombrello. Vediamo se riesco a shottarle col mio fucile. Piano, piano, no, no, ok, ci siamo quasi. Oh, dannazione, allora ho l'ombrello sul tre, ho l'ombrello sul due e il fucile sul tre. Teoricamente, posso lanciarmi, sparare? Bu, 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 ombrello, salvami. Ok, mi ha salvato. Oh, grazie. E sono caduto pure sulle rotaie. Una cosa migliore di questa non potevo chiederla. E ora che abbiamo spaccato le finestre, gente, dovrebbe essere un gioco da ragazzi infilarsi all'interno, anche se probabilmente non lo sarà perché il vicino continua a lanciarci la colla e infastidirci un sacco. No, piano, piano. Ho l'ombrello aperto, sì, questa volta ho l'ombrello aperto. Piano. Piano. Vai, 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 vai. Oh, yes, ce l'ho fatta. Ok, quindi, a quanto pare siamo entrati in una stanza, uh, segreta, molto interessante, con un manichino che ha preso uno spavento e adesso si sta contorcendo al suolo, con niente di che, ma un altro missing script dell'Unreal Engine e una televisione qui dietro. Oddio! Oddio, ne sono finito! Eh, l'ombrello? L'ombrello! Ok, mi ha salvato. A quanto pare sono salvo, per qualche ragione. Ok, sono finito fuori dalla mappa. Quindi non serve in questa nuova Alpha 4 utilizzare qualche trucco particolare. Vieni, te l'hai trasportato automaticamente fuori dalla mappa. È un qualcosa di veramente, veramente strano, a dire la verità. Eh, oddio, cos'è quella? È una scatolina bianca. È il cubo mancante! È il cubo colorato, o meno, visto che è bianco. Mancante! Quindi un cubo bianco. Quindi la combinazione è tre cubi verdi, cinque cubi rossi, due cubi gialli e un cubo bianco. Wow! Cioè, oddio, c'è un'intera mappa da esplorare qui e forse gli darò anche un'occhiata veloce. Tanto, oh mio Dio! L'altra mi ha quasi preso sotto, anzi un'altra mi ha praticamente preso sotto. Ma difficilmente in queste mappe esterne c'è qualcosa di interessante. Le darò comunque un'occhiata e casomai poi tornerò per un'esplorazione approfondita. Ma soprattutto voglio andare a vedere se quella combinazione di cubi in qualche modo può essere inserita all'interno di quella sorta di cassaforte nascosta o comunque quel passaggio nascosto dietro i pannelli. Uh, ma salve! Ma quindi praticamente siamo spawnati o comunque siamo usciti da questa cosa che sembra essere una sorta di scuola? Era la scuola, forse? Ok, questa cosa si sta facendo sempre più inquietante. Quindi siamo usciti dalla scuola e ora siamo all'interno della città. Una città che abbiamo già visitato precedentemente. Anche nell'Alpha 3 immagino che non ci siano particolari cambiamenti a parte. Ad esempio le macchine che sfresciano a una velocità incredibile. Quella è la nostra casa per caso. Wow! Quindi siamo effettivamente all'esterno della mappa. Voglio vedere se riesco a tornare all'interno della mia casa da fuori. Oppure se c'è un muro invisibile che mi blocca alla grande. Sì, c'è un muro invisibile che mi blocca alla grande. Quindi a quanto pare, gente, questa mappa qui fuori non sembra essere particolarmente interessante. Non sembra esserci quasi nulla. Ma voglio subito tornare all'interno della mia bella casetta per provare la combinazione e vedere che succede. Ok, gente, stavo andando a mettere la combinazione, ma mi sono trovato davanti a questa porta luminescente. A quanto pare, io non ho mai giocato di notte e questa porta si è accesa soltanto perché ho affrontato questa nuova giornata in Hello Neighbor di notte. Vediamo se è cambiato qualcosa. Era chiusa prima, si apre ora. Ok, buongiornissimo. Ho una torcia, posso... C'è qualcosa di interessante a queste parti? Niente, veramente, è una stanza completamente vuota. L'unica cosa è che c'è una porta con l'icona del sole sopra. Non dirmi che devo aspettare che faccia giorno. Ma porca miseria, vabbè, torniamo qui quando fa giorno e vediamo se magari questa porta si apre e c'è qualcosa di molto interessante al suo interno. Se vi chiedete come ho raggiunto la porta di prima, gente, basta lasciarsi cadere qui, con ovviamente un bel ombrellino che ci parla le chiappe, passare oltre questa porta, questa sorta di stanza inutile, c'era soltanto una sedia a rompere le balle, qui c'è un bel coso e... Oh no, si è chiusa... Si è chiusa la porta della luna, non ci credo. Cosa devo fare per tenerla aperta? Magari devo bloccarla con una scatola, con un ombrello. Devo assolutamente farlo. Oh yes, ha funzionato. Non so se sia stato l'ombrello o che altro, ma la porta della luna è aperta anche se è giorno, quindi... Adesso la porta del sole dovrebbe aprirsi. Oh yes, siamo riusciti ad accedere, gente, a una zona che non abbiamo mai esplorato prima. Oh, 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 ci potrebbero essere cose molto interessanti. No, niente. C'è un calendario con scritto 29.08. Oh, questa è una cosa molto interessante. Anzi, sapete cosa? Visto che Hello Neighbor dovrebbe essere rilasciato in estate, quindi agosto, potrebbe essere 29 agosto. La data di rilascio dell'Hello Neighbor definitivo. Lo scopriremo soltanto più avanti. Qui c'è una strana televisione che riflette delle scritte strane. Sembrano quelle della stazione per qualche ragione, anche se la stazione non sembra essere qui. Va bene. E qui invece una scatola. Con una X e un 1. Non so cosa voglia dire di preciso. Aspettate, fatemela prendere in mano. Vediamo se fa qualcosa di particolare. Lascia, stupida torcia, mi serviva per la notte, adesso non mi serve più. Oh, aspettate. Ok, ho capito forse. Questo è un riferimento alla Xbox One. L'avete capita? Aspettate. Forse vuol dire che Hello Neighbor arriverà anche su Xbox One? Oh, molto e molto interessante. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Forse potrebbe essere un ottimo indizio per capire qual è il futuro di Hello Neighbor. Ma nel frattempo buttiamo via le sedie e vediamo cos'altro c'è. Ehi là, c'è qualcosa di segreto lì su. No, in realtà è un pezzo di legno. Oh mio Dio, un'altra porta. Un'altra porta ancora. Che non si può aprire per qualche ragione. E porticciola, perché non ti apri? Oh mio Dio, è veramente stranissima questa cosa. C'è un'altra porta completamente blindata e anche barricata. Non possiamo nemmeno avvicinarci, anche se fossimo in grado di aprirla. Non riusciremo ad entrarvi. Ed è bloccata. Magari facendo un pochino di parkour, entrando... dal tetto. Da qui sopra, forse. Salve. Dai, ho il doppio salto. Fammelo sfruttare. A quanto pare questo è il luogo ancora misterioso e bloccato. Magari ci potrò entrare più avanti, ma per il momento, gente, direi di lasciarlo stare qui, perché ci potrebbe portare in chissà che posti. Mi piacerebbe almeno essere in grado di aprirla, ma per il momento non è così. Magari più avanti sbloccherò qualcosa di interessante. Ma, gente, mi sto un pochino distraendo. Andiamo a provare questa incredibile combinazione e vediamo che succede. Spero di non essermi dimenticato il numero dei cubetti. Cinque rossi, tre verdi, due gialli, uno bianco. Cinque rossi, tre verdi, due gialli, uno bianco. Uh, dovrebbe essere anche qui vicino, forse. Salve, buongiorno. Esatto, sono quelle finestre. Quindi posso direttamente spaccarle. Perfetto. Prendiamo il nostro ombrello. Entriamo dentro. Per i pannelli fantasma. Dai, dai, ciccio. Ok, perfetto. Un pannello fantasma? Due pannelli fantasma. Entriamo nell'errore. Uh, e qui c'è il solito codice, che magari se mi aiutate a decifrare sarebbe una cosa molto, molto figa, altrimenti lo porterò nei prossimi episodi. Fatemi uscire da questi cubetti e vediamo se riusciamo a inserire la combinazione corretta. Proviamo a mettere cinque rossi, tre verdi, due gialli e uno bianco. Non fa nulla, a quanto pare. Abbiamo a nostra disposizione un pochino di oggetti, magari possiamo sparare col fucile. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre. Oddio, oddio! Ah, pensavo stesse cadendo qualcosa in realtà. semplicemente questi stupidi tappi che continuano a farmi inciampare. Ok, cerchiamo di metterci in una posizione migliore e rifacciamo la combinazione. Uno, due, tre. Oh, la madman è lasciata in pace. Oh, Cristo. Ok, ok, questo gioco è troppo buggato per concentrarsi. Quattro, cinque. Uno, due, tre. Oh, piano. Uno, due. Due e uno. Fatto qualcosa? A quanto pare no. Per il momento, gente, questi cubi non sembrano essere interagibili e sinceramente non so come riuscire a inserire la combinazione che ho trovato. La combinazione è quella, ne sono praticamente sicuro. Avete visto con i vostri piccoli occhietti che abbiamo trovato? Cinque blocchi rossi, tre verdi, due gialli e uno bianco. Ma come si inseriscono? Questo è veramente un mistero che spero di andare a risolvere le prossime volte. Ovviamente lasciate tantissimi mi piace se volete altri episodi di Hello Neighbor. Se volete che anche questo mistero venga risolto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao. Ovviamente ditemi tutte le vostre teorie e idee che potrei portare le prossime volte. Ciao, ciao.